Chiara, ti vedevo osservare, ti ha emozionato? C'è qualcuna di queste opere che ti ha emozionato? No, mi emoziona una cosa che ha detto Jacopo Veneziani, e cioè che ci vuole l'improvvisazione, ci vuole una tensione, un imprevisto in fondo nel fare il quadro. Ecco, infatti, parlare con chat GPT è un grandissimo esercizio narrativo. Cioè, per far mimare quei quadri lì, bisogna praticamente scrivere un trattato di ecfrasi, quindi di descrizione, molto, molto cose che Jacopo Veneziani avrà fatta, ma ancora più il gesto narrativo, cioè bisogna programmare l'improvvisazione o supporre l'improvvisazione che ciascuno di questi pittori ha avuto nel momento in cui si stava mettendo davanti. Quindi fare sempre noi uomini il lavoro per la macchina. Ma sai Massimo, io penso che la nostra ossessione sia adesso attuale se le macchine hanno la coscienza o no, però noi dobbiamo dire che siamo diversi da tutto il resto del creato ogni volta, quindi come nel 600 dicevamo che gli animali non provavano dolore, adesso diciamo che le macchine non hanno la coscienza. Dobbiamo separarci, perché siamo una cosa diversa, cioè l'antropocentrismo, spiegami l'antropocentrismo, tutto è diverso da quello che siamo noi. La tecnologia e religione è il titolo del libro in uscita il 14 marzo per Einaudi e in questo libro tu formuli un teorema che insomma diventerà sicuramente molto popolare, lo lanciamo questa sera in tv, il teorema del peluche. Cioè cosa sostiene Chiara Valerio? È vivo tutto ciò che suscita emozioni. Volevo raccontare come nasce il nostro rapporto e perché nasce ossessivamente il nostro rapporto con la tecnologia e siccome la cibernetica, questa branca della matematica inventata da Norbert Wiener che è stato un grandissimo matematico negli anni 50 del 900, nasce sulla retroazione, cioè quando esiste il feedback in realtà possiamo cominciare a parlare di macchine in qualche modo intelligenti. Ecco, io ho pensato che in realtà questa è la stessa cosa del peluche. Noi nasciamo e siamo circondati da cose vive. Il peluche è vivo, i piccioni sono vivi, le caramelle sono vive, le rossana ci fanno vedere il mondo in un altro modo, tutto è vivo. Poi a un certo punto arriva qualcosa che possiamo definire intelligenza naturale o artificiale che ci dice che tu, tuo essere umano, sei più vivo di altre cose. Questo comincia col linguaggio. Uno va a scuola e improvvisamente impara che ci sono le pietre, ci sono i regni, ci sono le piante, ci sono gli animali e poi ci sono gli esseri umani fino ad arrivare al Padre Eterno. E allora l'unica cosa, e quindi improvvisamente tu sei circondato da cose morte, quando sei stato circondato da cose vive per tutta la prima infanzia, con quella grande tenerezza e invenzione, e l'unica cosa che ci fa dire ancora che sono vive cose che noi sappiamo non esserlo più perché abbiamo studiato e abbiamo pensato di essere di sostanza diversa, è il linguaggio. Quindi in qualche modo avendo noi appaltato questo linguaggio alle macchine, dobbiamo confrontarci, come diceva Jacopo Veneziani, se l'arte è qualcosa che presuppone una coscienza e che cosa sia questa coscienza. Ed è una questione che mi appassiona molto, perché io sono sicura che se noi ci riflettessimo un attimo sapremmo molto bene che queste distinzioni che facciamo tra noi e il resto del mondo non solo sono anti-ecologiche, ma sono anti-erotiche, non sono anti-politiche, sono il contrario della cosa che ci fa stare insieme, cioè divertirci. Quindi tutto questo, e volevo farlo con una cosa che è stata lateralmente, liminalmente un argomento del mio dottorato di ricerca, che era appunto un dottorato di ricerca in cibernetica, dove mai me lo sono dimenticata. Come sempre succede a quello che si è fatto, ma è bello che il libro comincia in una maniera più umana possibile, che è la zia, zia Chiara, col nipote di cinque anni e lui che ti ha dato, diciamo, il lavoro. Sì, mio nipote è Francesco, che mi chiede, stiamo giocando con l'uomo ragno, poi a un certo punto mi chiede se ci sono altri uomini ragno, io gli porto il giardino delle delizie di Bosch, dove ci sono ovviamente figure metamorfiche, e lui ovviamente la riproduzione è piccola, mette subito le mani sul foglio e cerca di allargarle. Fa così anche mio figlio. Cerca di allargarle e mi dice il libro non funziona. E allora io penso, come faccio a spiegargli che il libro è un dispositivo che non funziona in questo modo? E da lì parte una riflessione. Hai scritto un libro per spiegarglielo, hai scritto la tecnologia e religione.